Buongiorno di nuovo a tutti quanti, io sono Giulio Brotini e sono il BIM Technical Manager di NKE e NTI. Quello che andremo a vedere oggi sarà un po' una carrellata su quelle che sono le funzionalità dell'ambiente cloud di Autodesk, ovvero dell'Autodesk Construction Cloud. In particolare faremo un focus su quello che è il prodotto entry level, chiamiamolo così, ma al contempo anche la base su cui tutto l'ambiente Construction Cloud è stato sviluppato e viene tuttora implementato, ovvero l'Autodesk Docs. In questi anni, con le varie trasformazioni che ci sono state, vuoi per la pandemia, vuoi per il cambio di modalità nel mondo della progettazione, nell'ambito lavorativo in genere, abbiamo avuto approcci diversi con quelle che sono le soluzioni, le modalità e gli strumenti con cui abbiamo dovuto collaborare, abbiamo dovuto interagire e coordinarci con i colleghi, con i clienti, con i collaboratori. Questo ha sicuramente cambiato profondamente il modo di lavorare, soprattutto il modo in cui si concepisce il progetto, dove il progetto fondamentalmente è passato da essere un semplice repository di file, o comunque un modello, un insieme di disegni, fino a diventare qualcosa di decisamente più complesso. Ormai quando parliamo di progetto parliamo di un insieme di informazioni, dati, documenti, processi collegati tra di loro attraverso delle relazioni, attraverso delle interazioni. Che iniziano nella fase progettuale, ma poi si protraggono per tutto il ciclo di vita del progetto, ma dell'opera stessa. Costituendo di fatto, quando parliamo di S-Built, soprattutto in ambito del settore construction, non solo una cartella o uno zip che io consegno, ma di fatto un sistema che mi permette di avere la consistenza della mia opera, sia alla fine del ciclo di progettazione e realizzazione, ma anche dopo averlo realizzato, durante il suo ciclo di vita. Questo processo, o meglio dire questo insieme di processi, trova il suo ambiente di sviluppo all'interno di quello che è il prodotto di base, chiamiamolo così, della construction cloud, ovvero il doc, che fornisce quelli che sono gli ambienti principali per la parte di collaborazione, condivisione e gestione del processo. Cominciamo con inquadrare un po' che cos'è l'ambiente in cui il docs va a lavorare. L'autodesk docs è uno dei prodotti della construction cloud. La construction cloud è un insieme di strumenti, un ambiente che va a coprire quelle che sono le esigenze presenti all'interno di tutto il ciclo di vita del fabbricato, comunque dell'opera che io vado a gestire, dalla parte di progettazione fino alla parte di pianificazione, di simulazione, di costruzione, e infine la parte operativa, cioè la parte dove effettivamente la mia opera entra in quello che è il suo ciclo vitale effettivo, dove le necessità e le esigenze cambiano perché non ho più una fase di progettazione, ma piuttosto ho una fase di mantenimento e di interfaccia tra ciò che è il mondo reale, l'oggetto reale e il suo corrispettivo nel mondo digitale. Prima di andare avanti, io faccio sempre un minimo di focus su quella che è la situazione, quella che è stata l'evoluzione che ci ha portato allo stato attuale. La piattaforma cloud di Autodesk si è evoluta negli anni, partendo da quelle che erano le prime applicazioni basate sulla piattaforma BIM 360 di prima generazione, dove fondamentalmente avevamo N servizi come il Docs, il Team, o per chi magari l'ha utilizzato o l'ha sentito parlare, il Glue o il Field, che erano completamente loro, quindi ogni ambiente aveva il suo repository, per cui lo stesso file era replicato sui vari sistemi, non avendo un archivio, un data store comune. Nella seconda generazione c'è stato il cambio maggiore perché si è passati ad un ambiente unificato. Un ambiente unificato significa che tutti i dati del mio progetto, i miei modelli, i miei file dvg, i miei documenti, sono univoci, sono presenti all'interno di un unico repository. Questo repository è diventato ed è attualmente proprio l'Autodesk Docs, che costituisce, concedetemi il termine, l'hard disk, il mio storage sul quale salvo i miei dati e poi mi permettono di fare anche tutta una serie di operazioni che vedremo. La grossa novità che c'è stata con l'introduzione della seconda generazione è stata l'introduzione della piattaforma di sviluppo Autodesk Forge. Tutto quello che vediamo nel BIN 360, nella Construction Cloud, tutti i suoi servizi sono basati su Autodesk Forge, che è la piattaforma tecnologica che permette la visualizzazione attraverso il viewer, come vedremo più avanti, e mette a disposizione una serie di API che permettono agli utenti e agli sviluppatori, come la stessa NKE, di sviluppare integrazioni, customizzazioni, espandere le funzionalità della piattaforma, sia lato cloud che lato desktop con l'integrazione con vari prodotti o sistemi esistenti. Ad oggi ci troviamo alla terza generazione dei prodotti cloud di Autodesk, ovvero la Construction Cloud, dove è stata mantenuta quella che è stato il cambio di piattaforma tecnologica presente nella generazione 2, ovvero abbiamo sempre una piattaforma basata su Autodesk Forge. Sono stati introdotti nuovi servizi, nuovi pacchetti, e in più è stata aggiunta una funzionalità che si chiama interconnessione. Che cosa si intende per interconnessione? Già nella seconda generazione avevamo un database, quindi un insieme di dati e di documenti comuni a tutti i servizi, ma nella terza generazione, ovvero nella Construction Cloud, è stato inserito anche un sistema che permette di avere processi comuni indifferentemente dal servizio che stiamo utilizzando. Che cosa significa? Significa che un ticket, chiamiamolo per adesso così, una checklist, un processo che viene avviato e gestito con qualsiasi prodotto o servizio della Construction Cloud, è visibile e gestibile da tutti gli altri sistemi. Quindi non c'è più una compartimentazione stagna tra ciò che faccio con l'Autodesk Docs, quello che posso fare con il Collaborate, con il Build e con i prodotti desktop. Come vedremo, l'integrazione adesso è totale su quelli che sono i servizi interni al mondo cloud e ciò che è anche tutta la parte di applicazioni desktop con i software di authoring che siamo abituati ad usare sui nostri computer. La Construction Cloud è un ambiente che è costituito da una serie di pacchetti, da cui il Bing Collaborate, che è il pacchetto destinato alla parte di progettazione e collaborazione, dove ho all'interno il Model Coordination, il quale mi permette di assemblare modelli multidisciplinari online, si interfaccia con Navisworks, ho il Design che mi permette di coordinare e gestire tutta la parte di pubblicazione dei pacchetti che vado a distribuire ai vari team, ho il Takeoff, che è un nuovo prodotto, sistema di quantificazione che utilizza i modelli in cloud, il quale mi permette di creare la mia UBS, di esportare le quantità sotto forma di file Excel o di file CSV, sia da modelli 3D, ma anche su modelli bidimensionali, i dvg o pdf. Abbiamo il build, il build è dal punto di vista del numero di funzionalità, il pacchetto più esteso, ed è l'ambiente dedicato alla gestione del cantiere, alla gestione pre-construction, dove ho tutta la parte di gestione dei form, cioè delle checklist, dei moduli, gli RFI, la gestione dell'acquisizione delle immagini di dati e di informazioni dal cantiere. Ma alla base di tutto questo abbiamo un prodotto, che è appunto l'Autodesk Docs. L'Autodesk Docs è lo strumento attraverso il quale vengono gestiti tutti i processi principali nell'ambiente construction cloud e in questo ambiente vengono anche gestiti tutti quelli che sono i processi che sono comuni ai vari prodotti. Quindi all'interno del Docs avremo tutta la parte di gestione degli accessi, le permission, abbiamo tutta la parte di storicizzazione del dato attraverso il versioning, i percorsi e i processi di approvazione, nonché tutta la parte di visualizzazione dei modelli online, la parte di reportistica e la parte di amministrazione per quanto riguarda la creazione di template, il project setup e la gestione degli utenti a livello centralizzato. Ora cerchiamo un attimo di capire che cos'è esattamente l'Autodesk Docs, quindi qual è il concetto alla base di questo strumento. Fondamentalmente l'Autodesk Docs è uno strumento che mi permette di raccogliere tutte quelle che sono le informazioni presenti in un progetto e garantirne in maniera ordinata e funzionale la distribuzione a tutti quelli che sono i membri che partecipano al progetto stesso, secondo quelle che sono le impostazioni, secondo le permission, secondo le policy che io vado a definire all'interno del mio progetto. Per avere un'idea di quella che è un po' le funzionalità principali, Docs mi permette di gestire tutti quelli che sono gli aspetti legati alla creazione degli utenti, la profilazione degli utenti avviene secondo quelli che sono gli standard dell'Account Autodesk, quindi posso andare a gestire l'accesso al progetto, posso andare a definire quelle che sono le permission sulle cartelle, andando a definire quelli che sono i processi di approvazione, quindi le review, dove comunque posso andare a definire quanti step ho. Ho la possibilità di gestire la visualizzazione, la creazione di mark-up, di annotazioni direttamente via web, lavorando su file 2D, su file di modelli tridimensionali. Ho la possibilità di gestire le attività, o per chi magari aveva già visto la versione inglese, le cosiddette issues. Le attività mi permettono di tracciare, anzi, di individuare in prima battuta un problema, analizzare quelle che sono le possibili soluzioni, instradare ed assegnare un'attività ad uno specifico gruppo di utenti, ad un utente, a una società, e fare follow-up per quanto riguarda la sua risoluzione fino alla chiusura dell'attività. Tutte queste funzioni sono presenti all'interno del DOCS, quindi non necessitano, diciamo, di ulteriori pacchetti dell'ambiente Construction Cloud. L'Autodesk DOCS, come per tutti gli altri prodotti, integra un sistema di visualizzazione basato sul web. Il sistema di visualizzazione è il viewer di Forge, il quale mi permette di accedere alle cartelle, mi permette di sfogliare quelle che sono i contenuti, di organizzare la mia struttura del progetto, codificabile anche all'interno di un template, e di accedere a quelli che sono i file disponibili per la visualizzazione. Al momento i file disponibili per la visualizzazione sono più o meno quelli che riesce a gestire un software come Navisworks. Attenzione, questo non vuol dire che io non possa caricare anche file non supportati dal viewer di Forge all'interno del DOCS, questo lo posso fare, posso caricare un file .zip, un archivio, chiaramente lo potrò condividere, potrò gestirne gli accessi, non lo potrò visualizzare nel web, ma comunque sarà un file che potrò gestire nelle sue versioni e potrò anche assegnare secondo quelle che sono le permission degli utenti. La visualizzazione attraverso il viewer mi permette di sfogliare il contenuto, in questo caso di un PDF oppure di un DVG, andare a gestire quelle che sono le impostazioni di base per quanto riguarda la visualizzazione, sfogliare quelli che sono i suoi contenuti a seconda di quella che è la struttura del file, ad esempio gli sheet per un PDF oppure i layout nel caso di un file DVG. In tutte queste visualizzazioni DOCS mi permette di utilizzare sempre gli strumenti di confronto. Ricordiamoci che il CDE, anche secondo quella che è la definizione della norma, è l'ambiente che mi permette di storicizzare l'archiviazione del mio dato. Il dato di per sé non viene mai sovrascritto e questo anche grazie al fatto che l'archiviazione come spazio all'interno del DOCS è illimitato e di avere sempre la possibilità di confrontare due versioni esistenti del file a seconda di quello che noi andiamo a confrontare, ad esempio se parliamo di ambienti 2D o di PDF o pure di ambienti di file BIM, quindi ISC, Revit. In quel caso avrò degli strumenti di confronto diversi a partire da un semplice quanto efficace overlay dove vado a evidenziare con colori differenti quelle che sono le varie versioni, sia nella modalità sovrapposizione oppure tramite lo strumento slide by side che mi permette di creare una sorta di linea di separazione tra le due versioni e spostando il cursore ho la possibilità di visualizzare, scoprire, chiamiamola così, una versione anziché l'altra. È uno strumento molto semplice per la parte 2D ma è estremamente efficace perché mi permette di confrontare qualsiasi tipologia di file, quindi non necessariamente il confronto è uno strumento delegato soltanto ai modelli di Revit o ai modelli ASI, ma è uno strumento che posso usare in maniera sistematica su qualsiasi tipo di documentazione, quindi come vediamo anche qui con un PDF oppure con un DWG. Questo sistema di visualizzazione, ripeto, è basato su Forge, quindi su quella che è la tecnologia comune a tutti gli strumenti, che include anche tutta la parte relativa alla creazione di annotazioni, alla creazione di attività, quindi di issues, di segnalare dei ticket, delle anomalie che possono essere assegnate e gestite poi attraverso un workflow dagli utenti designati. La creazione delle annotazioni permette di allegare dei link, di creare delle dipendenze tra i vari file, la creazione delle issues permette di segnalare un problema che può essere generico oppure legato a un determinato oggetto, anche all'interno di file strutturati come file Revit e file ASI. La issues permette di assegnare questa attività ad un utente specifico, quindi non è un semplice alert o un post-it che io attacco in una bacheca, ma l'utente riceve una mail all'interno del quale c'è un link che riporta esattamente alla segnalazione che è stata fatta. È possibile attaccare degli allegati, dei file, delle informazioni che possano aiutare l'individuazione del problema e la sua risoluzione. Tutte queste attività sono sempre legate ad un log. Il log mi permette di vedere tutto quello che è lo storico, non solo sul file, ma anche su quella che è l'attività che è stata svolta. Quindi anche nel caso di una chiusura, di una issues o di un'attività, io ho sempre la possibilità di vedere quali sono state le operazioni, da chi sono state eseguite e quali sono stati i processi, i file o i dati ad esse correlate. Ora, l'autodesk docs è fondamentalmente un ambiente di visualizzazione, ovvero un ambiente all'interno del quale io vado a visualizzare un file o vado a effettuare dei commenti, delle annotazioni o a gestire dei processi tramite le attività. La parte di authoring, la parte di modifica di norma è demandata all'ambiente desktop con l'interposizione di uno strumento gratuito che poi vedremo, che si chiama Desktop Connector, il quale mi permette di gestire tutte quelle che sono le aperture dirette dal mio PC, dal mio desktop, dei file che si trovano sul cloud, compreso anche le funzionalità di check-in e check-out che mi permettono di lavorare sull'ambiente cloud come se fossi direttamente in un ambiente, diciamo, di locale, con Explore Resource. Tuttavia ci sono delle eccezioni. Nello specifico, l'eccezione che vediamo adesso è un'integrazione che è stata creata tra l'ambiente Autodesk Docs e l'ambiente Microsoft che permette sì di visualizzare i file dell'ambiente, diciamo, Microsoft, in particolare il pacchetto Office e nello specifico sono quelli di Word, Excel, PowerPoint e Visio, ma anche di poterli editare. Tramite l'integrazione con Office 365 non solo è possibile visualizzare un file, quindi apprendolo direttamente dal viewer di Forge, il file viene aperto e viene visualizzato e una volta fatto il login con il proprio account Office 365 si può switchare nella modalità modifica. La modalità modifica mi permette di salvare il mio file e il salvataggio mantiene la storicizzazione, quindi è come se lavorassi direttamente sul mio desktop e il salvataggio attraverso Office 365 rispetta il versioning dei vari file, quindi nel momento in cui viene salvato il mio file, vedete, avanza di versione, come se l'avessi fatto, diciamo, sul mio desktop e poi l'avessi caricato in un secondo momento. Questa integrazione al momento è disponibile appunto per questi formati ed è disponibile per tutti quelli che sono gli utenti che hanno un account Microsoft Office 365. Ora, il Docs è l'ambiente che contiene tutte quelle che sono le informazioni relative al mio progetto. Abbiamo visto quello che riguarda la parte di file bidimensionali, adesso vediamo anche come si comporta il viewer quando si parla di file 3D, ovvero di file Revit, file ISC. All'interno dell'ambiente, da selezionare ovviamente il progetto, scorrere quello che è il contenuto delle cartelle e dei suoi file, entrando all'interno della cartella, le estensioni riconosciute vengono visualizzate, qui vediamo un file Revit, ed è sufficiente cliccare sul file per aprirlo. Una volta aperto all'interno del viewer di Forge, ho a disposizione la barra degli strumenti che comprende tutti quelli che sono gli strumenti che abbiamo visto nella parte 2D, più le funzionalità relative all'ambiente 3D, quindi l'orbita, il comando di sezione, il crop region, la modalità di visualizzazione in prima persona, la quale mi permette di navigare con i tasti W, ASD all'interno del modello, la possibilità di creare piani di sezione o di aggiungere dei box di sezione, gli strumenti di misurazione che sono presenti anche all'interno dell'ambito 2D, qui ho anche tutta la parte di misurazione delle aree, degli angoli, e cosa importante, ho la possibilità di interrogare il mio modello. Ora, interrogare il modello significa andare a vedere quelle che sono le caratteristiche presenti all'interno del file stesso, quindi le proprietà, le informazioni che noi andiamo a gestire quando selezioniamo un oggetto sono direttamente correlate a ciò che è stato caricato all'interno del file stesso, se parliamo di un file ASC, vedrò quelle che sono le informazioni dettate dal property set che è stato caricato. Nel file di Revit vedo esattamente quello che vedo nelle proprietà, quindi ho una visione completa e assolutamente fedele di quello che è il file nativo, con quelle che sono le sue caratteristiche e le sue informazioni presenti. Chiaramente stiamo sempre parlando in un ambiente di sola lettura, quindi consultazione, non posso editare, almeno nella configurazione standard, le informazioni. La navigabilità del file è comprensiva anche di tutte quelle che sono le viste 2D. Attenzione, qui tendo sempre a precisare una cosa, spesso capita di sentire degli utenti che dicono, sì, ok, io lavoro in Docs, ma mi capita spesso di caricare il mio modello Revit, ma poi non vedere all'interno di Docs quelle che sono le tavole. Attenzione, questa impostazione non dipende dall'autodesk Docs, ma dipende dal Revit. Ricordiamoci che quando noi carichiamo il nostro file di Revit all'interno di Docs, noi stiamo pubblicando. La pubblicazione dipende dalle impostazioni di pubblicazione che abbiamo dentro Revit, che ci permettono di stabilire quali viste vogliamo far vedere dentro al viewer di Forge. Il modello è completo, quando io carico il file RVT, io carico tutto il file, ma la visualizzazione delle tavole o delle viste, al di là di quella che è la visualizzazione di default, cioè del modello 3D, viene decisa nel momento in cui pubblichiamo attraverso Docs il nostro progetto. Quindi è un'impostazione che ci permette di gestire questo aspetto in maniera molto capillare, ma è un'impostazione che arriva dal Revit stesso. Nella visualizzazione del nostro modello possiamo andare a interagire su quelle che sono le strutture, cioè noi possiamo vedere quelli che sono i livelli, quindi andare a gestire, filtrare il nostro progetto, il nostro modello, in base a quella che è l'organizzazione del file stesso, sia dal punto di vista, come vediamo qui, dei livelli, ma anche dal punto di vista di quella che è la struttura del nostro file, quindi andare a vedere quella che è il model browser, le categorie che sono presenti all'interno, con la possibilità di nascondere, di isolare, di ricercare all'interno della struttura, del contenuto, dei nostri componenti, gli oggetti che ci servono. Qui abbiamo, come nella parte 2D, il compare tra i due file e chiaramente ho delle funzioni diverse, perché ho dei modelli molto più strutturati, molto più ricchi di dati, in questo caso possiamo non solo vedere le differenze, ma andare a vedere anche quelle che sono le variazioni che ci sono state, quindi vedere quelli che sono gli oggetti aggiunti, gli oggetti o gli elementi eliminati, oppure quelli modificati. Questo elenco rappresenta le variazioni che ci sono state sul singolo modello, in questo caso lo vediamo su una vista 2D, ma ottengo lo stesso risultato sul 3D, andando a selezionare le singole modifiche, ho la possibilità di vedere in che versione sono state fatte e nel caso di modifiche andare a vedere anche in cosa consiste la modifica. Quando parliamo di modifica all'interno del DOCS, parliamo di un'analisi che mi permette di andare non solo a vedere qual è l'oggetto modificato, ma anche in cosa consiste questa modifica. La modifica può riguardare sia un'aggiunta di un oggetto, un suo spostamento, quindi una modifica geometrica, oppure anche una modifica del parametro, anche la variazione di un parametro come valore o l'aggiunta di un parametro è considerata una modifica, quindi non tengo sotto controllo solo quelle che sono le modifiche a livello geometrico, ma anche tutto quello che riguarda le eventuali modifiche di parametri. Questo è molto utile soprattutto quando si deve andare a fare una verifica sul code checking del modello o verificare la compilazione di determinati parametri. Tutte queste informazioni che sono presenti all'interno dello strumento di compare delle varie versioni possono essere visualizzate nel viewer o esportate in formato CSV. Il formato CSV poi ovviamente potrà essere aperto in Excel e questo mi permette di avere un storico, di avere un archivio o comunque un report di quelle che sono le modifiche che sono state effettuate. Ora, questa è una piccola novità. Diciamo che la visualizzazione di quello che noi possiamo fare e vedere all'interno del DOCS avviene principalmente via web, quindi attraverso il nostro browser. Questa attività può essere svolta anche da dispositivi mobile, quindi da uno smartphone o da un tablet, sia Android che iOS. Posso aprire il mio browser, entrare e fare il login sul mio portale di BIN360 o di DOCS e utilizzare quelle che sono le funzioni che ho a disposizione all'interno dell'ambiente Construction Cloud. Ora, questa funzionalità sicuramente è molto utile, si può utilizzare in qualsiasi situazione a patto chiaramente di avere una connessione. Negli ultimi aggiornamenti è stata resa disponibile anche per l'ambiente DOCS un'app dedicata. Quest'app si chiama Plan Grid Build. La trovate nell'Apple Store o sul Google Play ed è scaricabile gratuitamente. Che cosa permette di fare? Diciamo che questa applicazione fino adesso è stata uno strumento a pannaggio esclusivo della versione Build dei servizi di Construction Cloud. L'app di Plan Grid permette di accedere tramite un'interfaccia dedicata a quelli che sono i contenuti d'ora in poi non solo di Build ma anche per tutti quelli che sono gli utenti DOCS. In particolare mi permette di accedere al menu file di gestire tutta quella che è la parte di issues di processi di approvazione in un'interfaccia decisamente più indicata su un dispositivo touch mi permette di integrarmi con tutte quelle che sono le funzionalità presenti in un dispositivo mobile e utilizzando il Build di sfruttare quelli che sono strumenti di acquisizione come la fotocamera del dispositivo o qualsiasi altro device per acquisire informazioni di immagini anche i processi di approvazione o il sistema di visualizzazione sono disponibili all'interno dell'app mobile che in questo caso come potete vedere nella parte di viewer ha un'interfaccia dedicata che è ottimizzata appunto per i dispositivi mobile questa è molto molto più pratica rispetto all'utilizzo del browser perché mi permette di avere dei controlli che sono effettivamente studiati per un'interfaccia che non ha un mouse o una tastiera e che soprattutto se usata da smartphone dove ho uno schermo piuttosto piccolo risulta decisamente più pratica e comoda da utilizzare il docs contiene uno strumento che come abbiamo detto è la funzione attività o issues come veniva chiamata nella versione in inglese che permette di indicare un ticket una specie di di alert che può essere legato in maniera generica a quello che è un processo sul progetto oppure può essere legato in maniera puntuale su un oggetto all'interno del modello qui vediamo ad esempio un'attività che viene legata esattamente all'infisso all'interno del mio modello le attività sono degli strumenti di risoluzione l'attività mi permette di indicare un problema strutturarne quella che è la sua categoria quindi l'appartenenza ad una determinata tipologia quindi design in questo caso building code le tipologie e le categorie vengono decise dal project admin quindi l'utente ha piena libertà di creare quelle che sono le sue tipologie di elementi di problematiche da poter gestire da rendere disponibili anche la creazione l'assegnazione la visualizzazione delle issues vengono gestite da adesso con un sistema di permission capillare quindi non ho il problema di dire una issue un ticket viene visto da utenti che non ne hanno il diritto assolutamente no ogni utente ogni gruppo ha l'accesso a quelle che sono le attività che sono state legate tramite le permission a quell'account la creazione poi mi permette ovviamente di istradare questa problematica alla sua risoluzione attraverso l'assegnazione ad un utente tutte le attività sia per quanto riguarda le issues sia per quanto riguarda le review viaggiano in parallelo con un sistema di notifica che avviene tramite mail quindi nel momento in cui viene creata un'attività l'utente riceve automaticamente una mail di notifica all'interno della quale è presente il link che riporta direttamente nell'ambiente del viewer di forge all'attività o alla review collegata quando parliamo di attività quindi di issues essendo un processo di risoluzione dobbiamo anche considerare il fatto che una volta creata questa questo ticket oltre ad averne diciamo lo storico deve anche aiutarmi deve servire per poter risolvere il problema per poter avere tracciabilità la risoluzione di una issues o ambiente diciamo di progettazione passa al 99% dall'utilizzo di un software di authoring che può essere ad esempio Revit quindi la necessità più forte che abbiamo in ambito di progettazione è quella di vedere la nostra issues ma soprattutto di vederla all'interno del software con cui poi andrò a fare effettivamente la modifica qui vediamo l'integrazione all'interno dell'outless Revit che è disponibile dalla 2020 anzi no scusate dalla 2019 in poi che si chiama issues add in oppure nella versione tradotta in italiano si chiama problemi in pratica questa funzionalità che cosa mi permette di fare mi permette di aprendo il modello che si trova all'interno del cloud il modello Revit di visualizzare quelle che sono le issues cioè le attività che sono legate a quel modello chiaramente sempre seguendo quelle che sono le permission e le regole che sono state dettate all'interno di questa integrazione mi permette di visualizzare direttamente la issues cliccandoci sopra e vengo portato all'interno del modello sull'oggetto a cui è legata questo mi dà un collegamento univoco mi permette di vedere esattamente qual è l'oggetto per il quale mi viene richiesta la modifica e di modificare l'elemento e quindi aggiornare la mia issues che viene immediatamente sincronizzata con quello che è l'ambiente di docs è uno strumento molto semplice è un'integrazione gratuita quindi non non è un software aggiuntivo ma che mi permette di risolvere un grosso step nella parte di completamento della risoluzione del problema cioè di lavorare direttamente con le attività segnalate tramite lo strumento cloud nel software desktop in maniera puntuale e precisa senza però perdere quello che è il collegamento al processo che ho nell'ambiente del common data environment arriviamo alle revisioni ovvero il common data environment in questo caso diciamo nello specifico il docs è lo strumento il quale mi permette di andare a definire quelli che sono i flussi con i quali vado ad approvare un documento e tutte le azioni successive che adesso sono correlate all'interno di una revisione ci saranno vari step a partire dall'inizietro cioè colui che è diciamo demandato a creare a far partire la revisione e i vari approver i quali andranno a subentrare all'interno del processo a seconda di quelle che sono le attività che io vado a definire i processi sono strutturati dall'utente in questo caso dall'administrator che assegna il numero degli step il numero delle persone che i ruoli o gli utenti che devono partecipare e le eventuali azioni che devono essere compiute ad esempio una volta completata con successo la revisione spostare o copiare il file in una cartella i vari step vengono gestiti da un'interfaccia centralizzata e tutte le attività sono sempre gestite tramite notifiche via mail quando una revisione viene avviata comparirà all'interno della dashboard quello che è l'utente che ha in carico in quel momento quello step nel momento in cui si passa l'utente successivo l'utente che viene chiamato in caso in quello step di approvazione riceve la notifica e la revisione passa in carico a lui fino al completamento e a l'approvazione oppure la non approvazione del documento con tutte le azioni che sono state programmate nel processo è un processo che viene strutturato viene pianificato e mi permette di ripetere per tutte quelle che sono le casistiche che poi vado a definire con un numero adeguato di processi i workflow che devono seguire ogni tipologia che di file nei vari step dell'attività progettuale infine l'autodesk docs come dico sempre probabilmente ce l'abbiamo in molti e non lo sappiamo perché l'autodesk docs è un prodotto che è presente nella ASC collection quindi se io ho la mia ASC collection ho all'interno anche il docs il docs è un viene diciamo visualizzato all'interno del vostro account autodesk come uno dei prodotti all'interno dell'ASC collection su questo tengo a fare una precisazione capita spesso che gli utenti mi dicono che non riescono ad attivare il docs attenzione il docs dell'ASC collection non è sufficiente avere la licenza assegnata per poterlo utilizzare ma in prima battuta l'utente deve creare il proprio portale dobbiamo ricordarci che il docs fondamentalmente è come se fosse una sorta di portale di sito web attraverso il quale creo il mio ambiente di condivisione dei dati e sul quale poi vado a generare a creare i progetti a invitare gli utenti la prima creazione deve essere fatta dal contract manager perché se un utente che non ha diciamo facoltà amministrative sul proprio contratto autodesk va a fare questo tipo di attività attiva automaticamente una trial che non è legata al portale e questo poi chiaramente crea un po' di confusione quindi il docs è presente se ancora non l'avete attivato lo potete fare ma la prima attivazione deve essere fatta dal contract manager dopodiché il contract manager creerà il portale lab e potrà invitare gli utenti della propria azienda e a loro volta potranno invitare anche collaboratori esterni o comunque avviare un sistema collaborativo su quelli che sono i progetti in essere presenti all'interno del proprio CD bene io ho concluso e direi che se vogliamo incominciare a vedere un po' di cose vedo che ci sono un po' di domande possiamo iniziare allora un attimo che mi do un'occhiata alle domande allora c'è una domanda dove mi chiedono allora premesso che mi pare abbastanza intuitivo l'utilizzo di docs vorrei chiedere se è possibile utilizzarlo partendo ovviamente dal fatto che sono in possesso di una licenza easy collection completa quindi comprende anche l'uso di collaborate quando entro in situazione che c'è allora attenzione il docs è presente nella AC collection ma non il collaborate il collaborate è un prodotto a sé che comprende l'autodesk docs ma è diciamo lo step successivo per quanto riguarda l'accesso alla vecchia piattaforma attenzione il l'ambiente construction cloud ha un un unico ambiente di gestione dei progetti che si chiama unified project dentro unified project è possibile visualizzare sia i progetti che riguardano la parte diciamo di vecchia generazione c'è bin 360 sia quelli della construction cloud nell'elenco dei progetti sono riconoscibili perché c'è un un'icona leggermente diversa una b in blu per i progetti su tecnologia bin 360 è una specie di mappamondo con dei meridiani e paralleli per quanto riguarda il progetto construction cloud poi vedo una domanda dove mi chiedono se per conferma per poter vedere gestire una issues in revit oltre al docs devo avere collaborate pro no il collaborate pro non è necessario l'unica cosa che ho di cui ho bisogno per il per poter vedere diciamo una issues dentro revit è il l'estensione della per le issues di laddin per le issues di revit che è scaricabile dalla desktop app di autodesk ed è gratuita quindi non ho bisogno di un di un ulteriore servizio è già presente nel docs la stessa cosa è disponibile anche per navisworks per navisworks c'è una differenza nel senso che la din permette di visualizzare le issues ma anche di crearle chiaramente per navisworks si lavora sul modello nvd quindi sul sul drawing di navisworks se invece ho il collaborate quindi l'autosess collaborate non è necessario il pro è sufficiente il collaborate standard navisworks lavora come client quindi vede direttamente i modelli che sono nello spazio di condivisione di coordinamento nel cloud li può assemblare o utilizzare quello che è l'assembler delle viste che hai creato dentro il cloud e sfrutta la funzionalità delle issues distribuendole anche su quelli che sono i modelli collegati quindi eventuali rvt o is questo però con il collaborate altrimenti se non ho il collaborate o solo il docs utilizzo direttamente le issues sia in lettura ma anche in creazione quindi navisworks può creare una issues direttamente dal file nvd allora qui vedo che c'è anche altre domande bisogna accedere dall'account del contract manager ovvero chi ha fatto esatto come ho detto prima per quanto riguarda la prima creazione del portale è necessario che venga fatta dal contract manager ovvero dall'account Autodesk che gestisce le licenze della propria società da lì viene creato il portale andando a selezionare diciamo il passaggio abbastanza semplice sono giusto due step dove mi viene chiesto di specificare il nome del portale che normalmente corrisponde al nome della società e mi viene chiesto dove voglio ospitare il mio data center quindi su server in territorio europeo o in territorio US in termini funzionali non cambia assolutamente niente quindi le funzionalità sono le stesse non ci sono differenze di prestazioni è solamente una differenza in termini di tutela della privacy e residenza del dato allora qua vedo c'è una domanda dove chiedono è possibile creare note attività direttamente nel file Revit e vederle successivamente su docs quindi fare un processo inverso no al momento il processo è relativo solo alle attività cioè alle issues ed è dal cloud a Revit quindi Revit non è in grado di creare esso stesso una issues per il momento l'applicazione è monodirezionale cioè dal cloud a Revit l'unica cosa che può fare Revit può rispondere ad una issues esistente quindi posso cambiarne lo status aggiungere un commento che poi ovviamente viene visualizzato nello spazio cloud ma non posso creare una nuova attività o creare una notazione di Autodesk Docs che sia poi visibile nel viewer di Forge allora qui vedo una domanda relativa sempre al contratto il contractor può aprire il portale anche se non è in possesso della licenza vera e propria ovvero le licenze a disposizione della nostra azienda non sono assegnate all'account del contratto assolutamente sì assolutamente sì normalmente la prima attivazione si fa appunto con il il contrat manager e per fare la prima attivazione io consiglio sempre di legare una licenza di ASC Collection anche in maniera temporanea al contrat manager questo avviene in automatico quando si acquista un nuovo prodotto che di default viene assegnato al al contrat manager ovvero alla mail con il quale diciamo abbiamo acquistato le nostre licenze Autodesk una volta fatta l'attivazione del portale la licenza può essere sganciata può essere riassegnata da un nuovo utente da notare che nella creazione del portale quindi del nostro hub di docs il contract manager può rimanere con il ruolo di account admin che è l'amministratore ad alto livello di tutto quello che è il portale quindi dei progetti e degli utenti che vi sono all'interno senza che l'account admin necessiti di una licenza di docs quindi l'amministratore che normalmente dell'account è una figura tipicamente del profilo IT può essere amministratore dell'account insieme magari anche ad un profilo più legato alla parte tecnica ma non per questo necessita di una licenza di docs perché non accedendo al CDE ma effettuandone solo la gestione non ha bisogno di una licenza specifica quindi si può attivarlo una volta attivato può riassegnare la licenza e mantenere comunque la supervisione e la gestione dell'account degli accessi e degli utenti che vengono comunque creati dal contract manager ovvero dall'account admin e poi possono essere utilizzati dai vari project manager sui progetti esistenti vediamo se ci sono nel frattempo altre domande allora qui vedo che c'è una domanda è normale che alcuni sheet di un 3D rimangono non visibili anche scaricando un file Revit in locale no nel senso che se noi carichiamo il nostro modello di Revit inteso come file rvt ma ovviamente il nostro file avrà delle viste 3D e poi ci saranno i vari sheet quindi le tavole che ho creato come ho detto prima la visualizzazione di queste tavole dipende da ciò che io ho deciso di pubblicare quindi da Revit attraverso lo strumento gestisci pubblicazione ho la possibilità di scegliere quali viste quali viste e qualità vuole vedere nel viewer di docs ma se io scarico ovviamente avendone le permission il file dal docs alla mia macchina locale io scarico l'intero rvt e aprendolo con Revit vedo tutto quello che c'è all'interno quindi non è possibile nel momento in cui scarico il file io vedo tutte quelle che sono le viste presenti all'interno va fatta una piccola precisazione in effetti ci può essere una situazione dove può trarmi in inganno ovvero quando noi salviamo il nostro file di Revit quindi apriamo Revit e salviamo il nostro modello all'interno dell'ambiente cloud lo salviamo come modello cloud questa è una modalità che si attiva automaticamente in Revit quando il software si accorge che stiamo lavorando in cloud e salvandolo come modello cloud le prime volte se non si è pratichi tendiamo a fare di solito un piccolo errore ovvero quando noi salviamo quindi clicchiamo sul tasto salva da Revit noi in realtà nell'ambiente cloud di Autodesk lato web non vediamo come ci aspetteremmo un avanzamento della versione cioè io posso salvare il mio file Revit n volte ma il mio file sul cd rimane sempre in versione 1 o versione 2 quello che è questo perché perché il salva è una sincronizzazione con il modello ma la sincronizzazione è una cosa la pubblicazione è un'altra ed è la pubblicazione che genera l'avanzamento della versione quando noi scarichiamo il file dal cde quindi dal docs noi stiamo stiamo scaricando la versione che vediamo pubblicata quindi noi vediamo pubblicata la versione 2 scarichiamo la versione 2 nel momento in cui posso magari aver sincronizzato sincronizzando le modifiche di ulteriori aggiunte al modello di viste di tavole quelle non verranno visualizzate finché da Revit non farò la pubblicazione quindi nel momento in cui farò pubblica modello cloud a quel punto il mio prodotto il mio progetto viene pubblicato e sarà visibile all'interno dell'interfaccia web di docs che avrà un avanzamento della versione a quel punto se lo scarico io vedrò quello quindi potrebbe essere questa la situazione dove io ho effettivamente sincronizzato il modello cloud ma non l'ho pubblicato quindi scaricandolo il locale io vedo quella che è l'ultima pubblicazione d'altronde è un processo compatibile anzi diciamo in linea con quella che è la gestione anche secondo la uni 11337 dove alla fine io ho un ambiente che è il work in progress dove io lavoro sincronizzo nel cloud ma non è lo shared né tantomeno il published quello che noi vediamo all'interno dello spazio web del docs è lo shared cioè è già qualcosa che ho condiviso magari internalmente al mio team che poi passerà in shared in condivisione per tutti gli altri team a fronte di un processo di approvazione ma è già qualcosa che ho pubblicato il vero work in progress è il modello che sincronizzo all'interno del cloud sia esso un modello condiviso qui nel caso del collaborate pro con il work sharing sia un modello singolo si tratta comunque di un modello centrale che io sincronizzo ma poi la sua pubblicazione avviene nel momento in cui io decido di pubblicarlo con le impostazioni delle viste che ne derivano